Io dico che scuole con le leggi è di legalità di scuola, perché nei primi legalità si parla di scuola di scuola di scuola di scuola di scuola di scuola di scuola. Non ha caso di scuola 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 ovvie la presentano proprio dei macissimi, perché non se può esaltare, scontentetevi proprio un piccolissimo accenno, in questi giorni il parlato di merito di vita e della cittadina di cane, ma scontate perché il cittadino non dovrebbe avere la libertà di scegliere quando lo chiede, se gli fa malissimo, se gli è ritardo una roba, non può fare perché è peccato, è un ciclio, ma è stato detto, è veramente una roba percognuta e anche per questo, e anche per questo non c'è stata sequenzione, quindi la passagna è proprio contro la illegalità, scontate questo, il cittadino, grazie. 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 per vedere rituali, ovvero la faccina chiede di accedere al conflitto pubblico per la scelta del risultato, con la indicatura e le molte famiglie hanno un'altra fisica armonica che dà la possibilità di accedere a famiglie che presenti o abitano gli altri stampanti, quindi ci sono situazioni che non sono meglio che il sindaco rendere a me che sia un sindaco e poi, e poi c'è anche l'invita, perchè sul centro qua, sono tornato dalla professore perchè noi abbiamo un trend della irregolarità nel settore della docenza nelle scuole che ovviamente, se i regolari non possono insegnare nella scuola pubblica, perché i regolari non ce ne sono e quindi è di tutto un affare, quindi è di tutto un affare nel settore dell'altro ora, questa volta che finiamo del passamento genitori evocatici, che ricordo, interverratti o accedere alla sua domanda. Grazie